Nella scorsa settimana è stato denunciato un positivo per mancato rispetto della quarantena, multate 20 persone, 17 per mancato possesso di green pass regolare e 3 per irregolare tenuta delle mascherine. In totale sono state 3.663 le persone controllate e 515 le attività commerciali e esercizi pubblici sottoposte a verifica. 4. Multate per la violazione dell'articolo 9 bis del decreto legge 52 del 2021 che prevede l'impiego della certificazione verde. Continua quindi il lavoro sul territorio delle forze dell'ordine come da piano della prefettura sul green pass che vede proseguire con costanza l'attività di controllo nei comuni della provincia nissena con particolare attenzione alle aree cittadine dove sono presenti attività ed esercizi pubblici in cui è richiesto l'obbligo del green pass. Prosegue così l'attività di controllo delle certificazioni e dei dispositivi da parte delle forze di polizia mirate a contenere e prevenire il contagio da covid-19.